Dal 29 novembre la sismicità dell'Italia è stata abbastanza modesta, abbiamo registrato circa 500 scosse o poco più, tutte ovviamente di magnitudo molto molto bassa, le scosse superiori a 2 sono state una sessantina, mentre le scosse diciamo superiori a 3 sono state solamente 6, la più forte è stata questa qui a largo della Sardegna che è anche un po' particolare perché in una zona in cui di solito non avvengono terremoti e una scossa è stata di magnitudo pari a 3,5, mentre una scossa di magnitudo 3,4 è stata molto profonda qui nel terreno meridionale, altre scosse superiori a 3 sono state in provincia di Macerata, in provincia dell'Aquila e una in provincia di Bologna. La sismicità dell'area interessata dal terremoto, dalla sequenza di terremoti del 2016 è ancora attiva ma con terremoti molto molto piccoli nell'ordine di una ventina al giorno. Tra le tecniche utilizzate per gli studi in geofisica e vulcanologia ci sono anche quelle sperimentali, qui siamo nel laboratorio per le alte pressioni e alte temperature dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Qui si effettuano esperimenti per studiare le proprietà e i processi che avvengono all'interno della Terra. In particolare noi qui simuliamo alcune condizioni di pressione e temperatura che si hanno all'interno della Terra quando avvengono i terremoti oppure quando un magma si forma e tende a risalire verso la superficie fino a poi generare le eruzioni vulcaniche. In particolare qui nel laboratorio attualmente si stanno preparando degli esperimenti per studiare la composizione del mantello per capire quelle che sono le fasi mineralogiche, minerali che ci sono all'interno del mantello e quali sono le proprietà di questi minerali. Noi qui studiamo i segnali che emettono quei minerali, quei fusi, noi chiamiamo fusi che sarebbero l'equivalente dei magmi, che si muovono, che si formano all'interno della Terra, la loro composizione. Tutto questo a noi serve per avere poi degli strumenti per poter fare dei modelli, dei modelli che ci aiutano a comprendere il nostro pianeta, come esso è fatto e quindi anche certi fenomeni naturali appunto come terremoti e eruzioni vulcaniche. Grazie Grazie Grazie